Nessuna festa promozioni al Bonolis gremito come non mai. Lo champagne resta in frigo e l'appuntamento con la storia è rimandato di sei giorni. Il Teramo fa il suo, battendo un Coriaceo Pontedera, ma la vittoria dell'Ascoli a Sant'Arcangelo di Romagna tiene in vita il campionato e le speranze bianconere. Il Teramo doveva vincere in casa e lo ha fatto, mettendo a tacere chi, dopo la battuta di arresto di Prato, aveva visto qualche fantasma alle spalle della squadra di Vivarini. Il tecnico biancorosso, che non è in panchina perché fermato dal giudice sportivo, dà fiducia alla stessa squadra delle ultime uscite, con Di Matteo titolare. La partenza del Teramo, pur titubante, frutta dopo cinque minuti la prima palla gol che capita sul piede giusto, quello di Alfredo Donnarumma, che in area controlla, si libera, ma perde la freddezza nel momento decisivo, toccando la palla di Fino e mandandola a lato. Il Ponte Lera fa capire che non è venuto al Bonolis in Gita Premio e poco dopo Settembrini fa correre un brivido sulla schiena dei 6.800 che hanno gremito lo stadio Teramano, polverizzando il record di presenza storico. Poco dopo, Tonti deve intervenire ancora una volta per anticipare avversari e compagni su un cross rasoterra di Lombardo. Altra palla gol biancorossa al tredicesimo, sempre Donnarumma, pescato da Di Paolo Antonio in area toscana, che cerca il palo lungo, ma trova solo il fondo del campo. Per lui non è giornata. Visto che Donnarumma non trova la via della rete comincia a provarci la Padula, che su punizione al trentatresimo chiama Anacoura alla deviazione, quasi miracolosa, in angolo. E' comunque la prova generale del gol, che arriva al quarantesimo, quando lo stesso La Padula approfitta di un contrasto a vuoto tra Redolfi e Donnarumma e si ritrova da solo davanti ad Anacoura, che viene beffato con un preciso pallonetto che si insacca. E la fine di un incubo per il Bonolis, che non aspettava altro che il gol del Teramo per scacciare i fantasmi che cominciavano a materializzarsi dopo il vantaggio dell'Ascol in Romagna. Il Ponte d'Era bozza una reazione, che trova Condecenco, che di testa cerca la via della rete senza trovarla. Ci si attende che il Teramo chiuda la partita per evitare sofferenze inutili. Dopo quattro minuti della ripresa, la Padula va al tiro da dentro l'area, mancando però la mira. La risposta toscana arriva via stretto giro di posta per mezzo di Cesaretti, che trova però Tonti pronto alla deviazione in angolo. Ma al ventitreesimo le coronarie dei tifosi del Teramo sono messe a dura prova da un'uscita a vuoto di Tonti, su punizione di Lombardo. La palla termina sui piedi di Videtta, che calcia a botta sicura, ma sulla linea c'è Speranza, che ricaccia la palla dalla porta. Il Teramo capisce che non può più scherzare e accelera i tempi. Al ventisettesimo Donnarumma cerca ancora la via della rete dalla distanza, trova la respinta di Anacoura, la Padula si getta a caccia del tapin vincente, ma non trova la porta. Alla mezz'ora però il raddoppio si materializza, Donnarumma pesca la Padula in area, controllo esemplare, Veronica magistrale e diagonale da incorniciare per il 2-0 che vale tanto oro quanto pesa. Il comunale prova a fare festa, Scipioni a fare gol di testa al trentaseiesimo, ma le operazioni non riescono entrambe. Il sogno continua e non è più tanto tale. I punti di vantaggio sull'Ascoli restano 4 e le partite da giocare 2. A Savona, sabato prossimo, basta una vittoria e in subordine un pareggio con lo stesso risultato dell'Ascoli. Occorre soffrire fino alla fine, ma così la vittoria finale è ancora più bella.